Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, guardate che ricordo che vi sblocco oggi, questa è la serie completa uscita nel 1994 negli Happy Meal McDonald's del Re Leone. Eccole qui, quattro figure che completano questa fantastica collezione datata 1994 che è anche l'anno di uscita del film Il Re Leone che è il 32esimo classico Disney della storia e il quinto film del rinascimento Disney. Allora, prima di vedere le quattro figure che compongono questa collezione, ripercorriamo, come facciamo sempre brevemente, la storia del film che ha ispirato queste fantastiche figure. Vai! Simba è il figlio del sovrano Mufasa, nonché futuro re delle vaste terre del branco in Africa. Scar è lo zio di Simba, il fratello minore di suo padre Mufasa, che comincia a nutrire immediatamente una gelosia verso Simba, tant'è che non si presenta neanche alla cerimonia di benvenuto del cucciolo. Perché sa benissimo che Simba, un giorno, quando Mufasa non ci sarà più, diventerà re, scalzando proprio Scar dalla linea di successione al regno. Scar organizza un tranello per mettere Simba in pericolo. Lo convince ad entrare all'interno di una gola, mentre le iene inducono una gigantesca mandria di Gnu a correre nel crepaccio. Mufasa viene avvertito proprio dallo stesso Scar e corre a salvare suo figlio. Ci riesce e lo mette al sicuro, però viene travolto dalla mandria di Gnu. Mufasa si ritrova grappato a delle rocce e tenta piano piano di risalire la cima. Durante la risalita, Mufasa chiede aiuto a suo fratello Scar, che però si rifiuta e provoca la morte del fratello, gettandolo brutalmente tra la mandria di Gnu, impazzita. Simba assiste alla scena, non si accorge dell'omicidio del padre. Pensa infatti che Mufasa sia semplicemente precipitato dalle rocce a cui era aggrappato. Scar incolpa Simba della morte del padre e lo invita ad andarsene. Simba corre via e Scar ordina le Iene di inseguirlo per ucciderlo, ma il cucciolo riesce a salvarsi e va in esilio nel deserto. Eliminati sia il fratello che il nipote, Scar si autoproclama re delle terre del branco. Appena diventato re, Scar permette alle Iene di vivere insieme agli altri animali, rompendo il cerchio della vita e causando una carestia. Nel frattempo Simba viene salvato da Timon e Pumba, un suricato e un fagocero, che lo prendono con loro e lo portano in una giungla. Qui gli insegnano la cuna matata, ossia senza pensieri, per dimenticare tutte le preoccupazioni. Simba cresce e diventa un giovane leone adulto, molto simile a suo padre. Un giorno Timon e Pumba vengono attaccati da una leonessa affamata. Simba li salva e dopo una breve lotta scopre che la leonessa è Nala, la sua migliore amica che non vedeva da tanti anni, dal giorno in cui era morto suo padre. Nala pensava che Simba fosse morto perché Scar aveva raccontato che Simba era morto. Nala chiede a Simba di tornare a casa e di riprendere il regno del padre e il suo posto come legittimo sovrano. Simba all'inizio si rifiuta perché ha troppo timore di affrontare il suo passato. I due a questo punto litigano e si separano. Rafiki, che ha avuto delle visioni riguardanti il fatto che Simba fosse ancora vivo, corre a cercarlo e lo raggiunge nella giungla in cui si trovava e lo convince ad affrontare il suo passato. A questo punto Simba parte alla volta del regno, insieme a Nala, Timon e Pumba. Le terre del branco sono diventate ormai un deserto a causa delle folli scelte di Scar. A questo punto nasce uno scontro tra Simba e Scar. Ad un certo punto Simba riesce a mettere in difficoltà Scar, ma non vuole macchiarsi dello stesso crimine dello zio e quindi decide di risparmiarlo, ma lo manda in esilio e gli ordina di non tornare mai più. Scar finge di sottomettersi a Simba, ma poi lo attacca a tradimento. La lotta riprende e alla fine Simba riesce a gettare giù dal dirupo Scar, che pur sopravvivendo alla caduta viene circondato, assalito e divorato dalle iene. Quelle stesse iene che lui aveva usato qualche anno prima per tentare di uccidere Simba e quel giorno lo tradiranno quando Scar addosserà tutta la colpa a loro. Simba riconquista il regno del padre e viene riconosciuto come il legittimo sovrano dal resto degli animali. Sotto la guida di Simba le terre del branco ritornano ad essere floride e ricche di vita. Qualche tempo dopo Simba diventerà anche padre, dato che avrà un cucciolo da Nala e il cerchio della vita continua il suo corso. Ed eccoci qui rientrati ragazzi e adesso è il momento di vedere questa fantastica collezione da vicino. Cominciamo con la cartina, ecco qua, quattro soggetti che completano questa collezione, uscita come vedete anche qui sotto nel 1994. Nel retro della cartina invece ci sono tutte le funzionalità meccaniche delle figure, dei personaggi. Ecco qui, ci sono queste immagini che appunto ci mostrano le funzionalità meccaniche dei personaggi. Quindi Scar camminava, Zazu anche, Simba allargava le zampe, Timon sotto a delle rotelle e se muovevi Timon Pumba girava. Forse è l'unica funzionalità meccanica che ancora funziona perché purtroppo con il tempo ragazzi si rompono, si danneggiano. Allora, questa è Scar, guardate com'è fatto bene. Guardate com'è fatto bene, è il McDonald's, ci sa fare, ci sa fare con le figure, con le collezioni. Ecco qua, come si mantengono anche nel tempo, questo è del 1994 ragazzi eh, quasi 30 anni, 29 anni. Questa serie ha 29 anni, queste figure hanno 29 anni. Eppure guardate che spettacolo. Bellissimo Scar, bellissime anche Timon e Pumba. Vediamo se funziona ancora il meccanismo. Allora, praticamente, se tu muovevi Timon, se tu muovevi Pumba, Timon doveva girare, no, non gira più. Ecco, Timon doveva fare questo movimento qui, quando muovevi Pumba, ma non lo fa più. Allora, risistemiamo tutto e guardiamoci da vicino Timon e Pumba. Qua, vedete qui sotto ci sono delle rodelle, quando tu facevi scorrere Pumba sul tavolo, Timon doveva girare, così. A proposito di Timon, eccolo qui. Guardate i dettagli del viso, le espressioni. Eh, fatte proprio a regola d'arte eh, nulla da dire. Fatte veramente molto molto bene a regola d'arte proprio. Adesso, passiamo a Simba, eccolo qui. Vedete lui? Ah, beh, è l'unico che forse funzionò. Non proprio del tutto, diciamo che in parte funziona ancora il meccanismo, vedete. Tende ancora ad allargare le zampe, però non le ritrae in maniera completa, come vediamo qui sulla cartina. Forse magari neanche in origine le ritrae in maniera completa, come fanno a vedere sulla cartina. E chi lo sa, comunque, diciamo che lui a livello di meccanismo è quello messo meglio. E guardate anche Pumba quanto è bello. Guardate. Guardate il painting, i dettagli, delle espressioni del viso. Ha fatto tutto veramente molto molto bene, le diverse tonalità di colore. Ha fatto bene, ragazzi. E poi c'è Zazu. Lui invece cosa faceva, Zazu? Apriva e chiudeva le ali e si muoveva con le zampe, quindi... Infatti queste facevano avanti e indietro e le ali facevano così, praticamente. Giravi questa. La carica ancora la dà, però... Se lo metto giù, vedete, non fa nulla. Forse si muoveva anche su e giù, forse. Così. Ok, comunque. Lui è Zazu. Eccolo qua. Ecco qua il nostro Zazu. Guardate un po'. Che spettacolo, ragazzi. Un vero e proprio spettacolo. Le serie del McDonald's sono bellissime, ragazzi. Sono veramente bellissime. E voi, se non volete perdervi tutte le serie del McDonald's del passato e del presente, tutte le serie uscite in Italia e all'estero, quindi mai uscite in Italia, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. E non solo, non vi perderete neanche tutti i video sulle sorpresine kinder del presente e del passato, su quelle della Zaini, San Carlo, Crick Rock, dolci preziosi, salati preziosi. Non vi perderete tutti i video sulle sorpresine del Burger King e degli altri fast food. Non vi perderete tutti i video sulle action figure del presente e del passato, sui retro toys, sui videogames, sul wrestling, sui manga, libri, fumetti, sulle serie TV, sugli anime e su tanto, tanto altro ancora. Iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Lasciate un bel mi piace a questo video, è d'obbligo, non si può non lasciare un mi piace a questo video. Fatemi sapere nei commenti se vi ricordavate di questa serie, se ce l'avete, cosa ne pensate, se vi ha sbloccato un bel ricordo. Insomma, fatemi sapere nei commenti. Condividete questo video con i vostri amici, così sbloccate un bel ricordo anche a loro. Seguitemi anche su Facebook, Instagram e TikTok, trovate il link in the box. Sempre in the box c'è il link al blog, se volete fateci un salto. E noi, come al solito, ci becchiamo al prossimo video. Ciao belli!